In questo video vediamo i 5 migliori PC 17 pollici in vendita online. Prima di iniziare con il video ti ricordo che trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Iniziamo! Numero 5 Al quinto posto troviamo Acer Aspire 3. Le opzioni per il processore di questo PC includono gli Intel Core, i Celeron e i Pentium. È dotato anche della tecnologia Acer Blue Light Shield che riduce l'esposizione alla componente blu della luce, contribuendo a ridurre l'affaticamento visivo. Non mancano, poi, la scheda wireless, una porta USB 3.0, due porte USB 2.0, una porta HDMI e una Ethernet. La presenza della scheda wireless ad alta velocità lo rende ideale anche per essere utilizzato con gli account cloud grazie alla rapidità con cui è possibile scambiarsi i dati. Da sottolineare la presenza di Windows 10 che porta con sé in dote tutti i vantaggi della nuova piattaforma, software della casa di Redmond. Dunque, maggiore sicurezza, l'accesso alle applicazioni universali, l'integrazione con OneDrive e tanto altro ancora, compreso l'accesso ai servizi di comunicazione di Skype. Windows 10, inoltre, garantisce costanti aggiornamenti e questo significa che questo PC anche dopo alcuni anni continuerà a ricevere miglioramenti e nuove funzionalità software. Il prezzo è di 761 euro. Numero 4 Al quarto posto troviamo HP. Questo laptop presenta un design studiato nei minimi dettagli, oltre a offrire alte prestazioni grazie al processore AMD, una tecnologia Wi-Fi veloce e tutto lo storage che ti serve. Il design con rotazione e sollevamento della tastiera e l'ampio clickpad consentono di digitare in una posizione più naturale e confortevole. È realizzato con materiali sostenibili, come plastica riciclata e potenzialmente destinata agli oceani. Il design è dotato di meccanismo di rotazione che solleva la tastiera, per offrire una posizione di digitazione più naturale e confortevole. Il multitasking non è mai stato così semplice e rapido con le prestazioni di un processore AMD e una scheda, grafica potente. Lavora e divertiti senza interruzioni, con una batteria a ricarica rapida. Con HP Fast Charge puoi ricaricare la batteria fino al 50% in 45 minuti. Il prezzo è di 799 euro. Prima di passare al prodotto numero 3 iscriviti a prezzo e recensioni per non perdere le migliori offerte del web in anteprima. Numero 3 Al terzo posto troviamo Microtech Corebook Ultra. Questo è un notebook elegante e minimalista. La sua scocca in ABS lo rende leggero ma al tempo stesso molto resistente in caso di piccoli urti. Grazie al suo stile minimalista sarà impossibile stancarsi di questo laptop. Nel nuovo modello di Corebook troverai già installato Windows 11 Home. In questo modo avrai a disposizione il sistema operativo aggiornato senza preoccuparti di installare la nuova versione. Il suo luminoso pannello IPS Full HD con una cornice ultra sottile ti regaleranno un'esperienza di visione con immagini grandi, colori realistici e brillanti e un rapporto schermo superficie superiore al 90%. Grazie alla CPU Intel con scheda grafica Iris Plus potrai modificare video, guardare film in 4K sulle tue piattaforme streaming preferite, creare un foglio di calcolo con grafici e query. Qualsiasi cosa tu voglia fare con i nostri Corebook Ultra sarà possibile, che tu sia sul divano oppure alla scrivania. Contastiera layout QWERTY Il prezzo qui è di 899 euro. Numero 2 Al secondo posto troviamo Lenovo 17V Garantisci la produttività del business e la sicurezza dei dati con questo notebook. Progettato per le piccole imprese, il modello 17V è basato su processore Intel Core di decima generazione. Il grande schermo offre moltissimo spazio per il multitasking, mentre il tastierino numerico consente di scorrere rapidamente i fogli di calcolo. È perfetto per chi vuole lavorare comodamente dalla propria scrivania. Il prezzo è di 919 euro. Numero 1 Al primo posto troviamo MSI Creator Z17. Con il più recente processore Intel Core i9, il nuovo Creator Z17 offre tutta la potenza per le tue attività di elaborazione multitasking e di livello professionale. Ha prestazioni di rendering due volte superiori e memoria grafica fino a due volte superiore rispetto alla serie 20. L'editing di video RAW HDR fino a 8K e l'utilizzo di modelli 3D extra large è più rapido che mai. Visualizza le tue opere artistiche con il brillante display TruePixel. Offre immagini vivaci con risoluzione QHD. L'esclusiva tecnologia Cooler Boost DMSI garantisce una dissipazione termica ottimale. Il nuovo Cooler Boost Trinity migliora il flusso d'aria della ventola e offre il miglior flusso di lavoro multitasking. Inoltre questo PC offre un set completo di port input-output ad alte prestazioni. Thunderbolt 4 offre connettività con velocità e versatilità all'avanguardia, supportando una larghezza di banda con funzionalità Daisy Chain. L'esclusiva banda offre velocità della luce mantenendo la rete fluida e stabile anche in ambienti affollati. Il prezzo è di 4.099 euro. E tu quale comprerai? Faccelo sapere con un commento. Trovi tutti i link ad Amazon sotto al video. Lo staff di Prezzo e Recensioni ti ringrazia per la visione.